e che neanche youtube lo fa egg nation ci siamo we are we are in live we are alive però qua non mi fa vedere ancora una mizzega eppure io ho fatto partire aspetta perché non vai cappuccio brioccio io non capisco perché come mi hanno scritto gli altri qua dice che sei in live però se vado in live è capire dove a sto punto sei entrato con youtube o sei entrato con tipo con facebook no sono entrato con youtube what the fuck is going on io non capisco aspetta che provo ad andare a vedere col telefono dove minchia siamo il fatto è che non siamo da nessuna parte no ci siamo ci siamo ci siamo siamo partiti da un'altra parte no ci siamo ci siamo dove siamo allora aspetta che devo togliere l'audio da qui no perché su youtube a me non c'è partire niente allora aspetta che devo togliere l'audio da qui no perché su youtube a me non c'è partire che se io continuo a refresciare il tubo non mi dice non mi dice niente allora aspetta eh che qui il bello della diretta tanto salve se siamo in live ciao ciao a tutti buonasera qui il bello della diretta diventa sempre un sempre più un problema ma dove te l'ha messo dai che la battuta si spreca no mi dissocio in anticipo aspetta eh stiamo cercando di risolvere un disguido tecnico tattico ah è un altro link sì ma non ho capito perché ah ok il grosso del problema è che ha caricato due cose diverse e non so minimamente il motivo ok ah buonasera buonasera a tutti buonasera a tutti intanto faccio un minuto di di condivisione appena trovo il link giusto intanto brindo chi c'è stasera raga ho trovato una birretta nuova che è la graffiters all in a day's work una ipa ipa si chiama working day c'è un uomo con la barba che non sono io perché come si può nemmeno io la mia barba è spoglia eh no perché non è bella come la tua questa è nera eh non vale però è buona 500 ml che andranno giù con piacere stasera parlando di liquidi dobbiamo tenerci idratati idratati sempre tenersi idratati mi raccomando oh allora intanto che andrè fa la condivisione io vi dico che stasera abbiamo una special guest che non è una persona fisica non è neanche una persona videoludica non è neanche un profilo finto ma è un profilo governato da una macchina ciò vuol dire che è un oggetto inanimato che andremo ad animare noi più avanti nella live quindi preparatevi perché stasera abbiamo fatto le cose veramente molto bene io non so di cosa il vise stia parlando a momento mi dissocio per sicurezza è sempre meglio dissociarsi nel dubbio nel dubbio ma quindi scusami sta live adesso la trovi sul tuo canale così cioè se io vado sul tuo tubo perché qua mi da ancora inizia a breve aspetta che scrivo su questa live spostatevi nell'altra ok allora vediamo dove l'ha messa solo per curiosità per capire che cazzo è sul mio canale? sì perché è sul mio canale sì sì adesso la vedo ok non so se crede che ha fatto lui boh magia ok buonasera allora siamo finalmente in live ripeto allora stasera trattiamo caro Andre cosa trattiamo? non lo so pizza e figli? no io volevo parlare di birre volevo parlare di birre va bene parlare di birre va benissimo io approvo no no stasera ragazzi intanto facciamo il solito ringraziamento al signor Alfo per la copertina grazie bellissima che anche stasera se avete visto la copertina sapete che stasera come ha vinto siccome ha vinto il sondaggio nella scorsa live e poi sui vari social instagram youtube faccialibro insomma su tutti i vari social parliamo di creazioni di liquidi in sicurezza è un argomento che stuzzica il palato come introduciamo questo argomento a tratti spinoso allora io intanto farei le premesse grosse del tipo per creare i liquidi in tutta sicurezza c'è un principio che dovrete seguire sempre ossia l'abbiamo parlato anche l'altra volta nell'introduzione comprare in siti ufficiali e soprattutto non nei mercati neri perché se volete risparmiare quei 4 euro per poi rimetterci un polmone siete liberi di farlo io onestamente spendo 4 euro il polmone me lo tengo attaccato dov'è quindi io già ho un rene solo anche un polmone solo sarebbe un problema quindi non bilanciamo non bilanciamo non bilanciamo esatto io rimando rimando in negozio o su siti effettivamente affidabili italiani 100% allora intanto partiamo col dire che noi stasera abbiamo parlato di questo macchinario che abbiamo ma ripeto non è un oggetto indispensabile per andare a creare un liquido ok introduciamolo ragazzi vi presentiamo l'agitatore magnetico si vede di merda lo so abbiamo fatto come meglio poteva una webcam trovata a casa penso la usasse Dracula ancora i tempi per registrare non lo so però intanto l'abbiamo usiamo questa l'agitatore magnetico che cos'è questa macchinetta qui che se voi la attivate per magia comincerà a girare il magnete premessa non dovete metterci liquido qua sopra perché se no è un casino lo spandete dappertutto ovunque meglio meglio dirlo per sicurezza quindi comunque non è una macchina indispensabile ci sono mille maniere la classica shaker se mettete tutto in una boccia agitata a mano non facciamo gesti mi dissocio per sicurezza però la mettete nella bocce e la agitate voi e non c'è mai ci sono arrivato ci ho messo un secondo ci ho messo un secondo bella bella la agitate voi e tutto il resto è pronto stasera parliamo io farerei sia di liquidi scomposti che anche di aromi che vediamo anche l'abbiamo già vista anche sul mio canale ma ho detto che ne parlavamo anche quindi voglio anche qui parlarne in live anche perché ci saranno domande sicuramente cominciate già a pensarle poi vi dico come faccio io sì dai come fai un po' diverso io preparo il liquido cioè metto la nicotizia metto la mia base dopodiché metto a riposo sul termosifone per un pochino un pochino quando prendi la bocca del 60 ml è pronto un pochino dipende dipende dal tipo di liquido i cremosi li lascia un po' di più i fruttati un po' di meno questo perché perché così siccome io svapo normalmente in full VG ok ci metterà la glicerina la glicerina col calore del termosifone si liquefa un pochino di più e quindi durante l'agitazione l'aroma la base e la nicotizia si amalgamano meglio insomma è un trucchettino insomma io intanto toglierei la macro così possiamo parlare noi finché non la usiamo togliamo la macro e siamo tornati noi anzi buonasera a tutti quelli che sono entrati bellissimi proprio il mio bel naso che ti entra in videocamera è fantastico ciao Davide Mugello ciao Danilo Sparaccini ciao Francesco buonasera aereo 651 buonasera pronti al decollo e anche a Marco buonasera a tutti buonasera siamo già in 12 fatevi sentire raga mi raccomando che siete fondamentali per queste dirette se avete domande mettete like condividete fate quello che volete ma fate fate vedere che ci siete esatto anche perché le domande ragazzi se vi serve qualcosa sono ovviamente speriamo che sia nell'argomento così possiamo anche andare a ampliare un po' la live su certi argomenti così da darvi una mano io premetto scusami se ogni tanto mi vedete sparire l'ho già avvisato Andrea ho avuto una piccola emergenza a casa quindi se mi vedete spero ogni tanto è per quello non è niente di grave però se serve sparirò ogni tanto partiamo? partiamo let's go allora partiamo io partirei con le cose semplici partiamo con gli scomposti secondo me allora gli scomposti ciao Giovanni buonasera forte Donatello grande Giovanni allora vado a prendere uno scomposto eccolo qui uno scomposto ecco e anch'io ho uno scomposto vedi uno scomposto uno scomposto allora anzi prendiamone uno nuovo così vedono quanti quanto ce n'è dentro no? è nuovo io prendo un altro un altro scomposto a caso un altro scomposto a caso così 0 0 5 2019 ecco quello lì ragazzi è la quantità come vedete poi ci sono varie quantità ad esempio quanti ml ha il tuo? qui sono 20 ml il mio invece è illuminato dalla luce di Cristo non si vede ok il mio è una 10 quindi ci sono vari a seconda delle aziende io in questo caso Royal Blend che fa svariati ml ad esempio c'è il mio mandi che ne ha dentro se non ricordo male 10 c'è l'old school che ne ha 15 c'è l'ace che ne ha ancora 10 ma la diluizione non va a cambiare più di tanto nel senso non è che se ci mettete una 70-30 rischiate che vi si allaghi l'atomizzatore no quindi non abbiate paura allora se vuoi dire qualcosa tu Andre baci il mio è dell'azienda Moonshine e solitamente lui utilizza 20 ml all'interno della boccia da 60 diciamo che il formato diciamo standard che è più utilizzato alla faccia vostra io ho smesso del tutto di svappare dopo 8 anni un bacione Andre Luca Marchi sono da un lato sono felice che tu abbia smesso di di svappare e che tu sia qui comunque cioè questo è bellissimo che non stai nuotando nei tuoi polmoni perché sappiamo ormai che ragazzi l'acqua nei polmoni ormai è tristemente nota dicevamo sì formato voglio aprire si vada ad aprire la boccia andiamo a togliere a stappare a sciabolare a sciabolare stappare quindi togliamo il beccuccio io utilizzo la nicotina di conseguenza apro la nicotina e devo stare anche se stiamo parlando di basse concentrazioni ma devo stare comunque attento comunque quindi l'ideale sarebbe mettere dei guanti comunque ora visto che io ho stappato c'è un beccuccio per velocizzare la cosa prendo un pezzetto di carta stappo togliendo piano piano non sì facendo molta attenzione dopodiché la giro tutta all'interno della mia boccia e ricordiamo che la nicotina adesso ormai da polmone non svapo più di nicotina però sappiamo che ci sono varie quantità di nicotina in 10 ml le concentrazioni sono diverse io utilizzo la 18 e di conseguenza su un 60 ml il mio liquido risulterà un 3 circa poco meno più o meno è un 3 se vuoi ti spedisco due atomi da mtl Luca Marchi allora cosa stiamo facciamo diciamo qua allora sai che anzi aspetta che che così oh perfetto così chiariamo subito la faccenda hai messo i puntini sulle L perfetto fantastico ok togliamolo intanto era una sciocchezza lascio per colare fino in fondo la nostra boccetta della nicotizia scusate mi metto a favore di camera che non è facile ragazzi sembra una cagata mettersi in fronte a camera non è facile una volta fatto ciò ho tenuto il tappo da parte perché un minimo di residuo c'è sempre e per la sicurezza di tutti io vado a ritappare la mia boccettina della nicotizia e la smaltisco nell'RSU poi prendo la mia base in questo caso ribadisco è full VG quindi è solo glicerina vado a portare a livello che scusami Andrea ricordiamo che VG è glicerina vegetale perché oggi sentirete stasera sentirete parlare molto di glicerina vegetale e di glicerolo 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 quindi sono i due termini allora la glicerina serve a dare densità il glicole serve a dare non so come definirlo serve a dare più meno densità quindi densità e più aromaticità in realtà perché i nostri aromi sono diluiti in glicole e propilenico di conseguenza andiamo ad aiutare fatto questo vado a ritappare la nostra boccetta mi assicuro che il tappino col beccuccio sia ben chiuso chiudo la nostra boccia e comincio la fase di agitazione manuale che detta così lo so suona male lo so lo so è un vantaggio per chi ne ha meno si abituerà a fare anche altro non ne vedo io vado ad agitare un pochino in maniera energica dopodiché come vi dicevo poc'anzi vado a mettere sul termosifone ora come vedete ci sono delle bollicine ci sono delle bollicine queste bollicine sono quelle che aiutano l'ossidazione dell'aroma l'ossidazione della nicotizia e l'ossidazione della base quindi andando ad aiutare ad amalgamare il tutto io adesso termino la mia miscelazione la mia prima miscelazione e vado a depositare il mio liquido sul termosifone per qualche minuto poi andiamo a rivederlo scoprendo come per magia che risulterà un po' più liquido rispetto a quello che avete visto adesso diciamo anche altre cose che come ha fatto Andre si può usare tranquillamente solo la glicerina vegetale che la densità se non erro vai a ottenere 70-30 80-20 80-20 80-20 se voi volete varie densità perché non c'è solo la glicerina vegetale come vedete c'è anche il glicole propilenico che è molto più liquido potete andare o a comprare se non volete farvele voi a casa senza farvi il calcolo di quanto devo metterne dentro ci sono le basi già pronte quindi c'è glicerina vegetale e glicole propilenico unite insieme con delle unità di misura che sono 80-20 70-30 60-40 50-50 e perché onesta perché uno dirà perché a cosa servono ste densità se uno svapa su atomizzatori a testine quindi quelli che non si fanno le rigenerazioni ma quelli che trovate cambiate le resistenze ogni atomizzatore avrà una propria resistenza una propria densità da utilizzare ad esempio se noi vogliamo avere un atomizzatore da polmone primo che mi viene in testa il TFV8 TFV12 TFV16 possiamo usare una densità tranquillamente anche 80-20 perché ha vattaggi talmente elevati che vanno a vaporizzare molto velocemente il nostro liquido se invece noi usiamo un Nautilus ad esempio che è un atomizzatore da guancia avendo delle resistenze con all'interno delle coil piccoline avendo anche dei vattaggi bassi per lo svapo di guancia si andrà a scegliere una densità 60-40 o 50-50 e se uno mi chiede ma se io metto il 50-50 nelle resistenze del TFV12 quindi nell'atomizzatore da polmone che succede? succede che vi trovate sotto le cascate del Niagara perché gli OR non sono abituati a gestire delle densità così basse di conseguenza negli atomizzatori di polmone dovete metterci o 70-30 o 80-20 se voi dite voglio prendere la glicerina vegetale e il glicole propilenico perché mi costano meno e mi faccio la base io ma non so come fare la mia base se svapate senza nicotina poi chiederò a te l'ausilio perché io con la nicotina onestamente non lo so fare io cosa faccio solitamente prendo il glicole propilenico prendo la glicerina vegetale quindi VG e PG prendo una boccia da 100 ml quindi grande un ciabbi di quelli grandi come questo in questo caso come dimensioni vuoto ovviamente e vado a fare il calcolo all'incirca se sono 100 ml so che dovrò mettere 30 ml di glicerina di glicole propilenico e 70 di glicerina vegetale per ottenermi una 70-30 è facile è uguale con le altre densità esattamente esattamente nel caso della nicotizia vale lo stesso ragionamento ovvero io ho la mia basetta da 10 ml per fare una base 70-30 metterò 20 di glicole propilenico la mia basetta da 10 e da 10 e il resto in VG e otterrò la mia base 70-30 a 3 se la voglio a 6 farò 10 di PG due di queste qua il resto in in icotina il resto lo aggiungerò in glicerina vegetale le proporzioni sono queste voglio svappare al 4,5 benissimo metterò 1,5 di questa e quindi avrò 15 di glicole propilenico 15 di nicotizia e tutto il resto sarà glicerina vegetale come posso aiutarmi a a prendere 15 ml 30 ml 20 ml regà siringhe vanno benissimo metti la macro macro queste siringhe siringhe pipette insomma ce n'è di tutti i gusti per essere se mi date un secondo vi faccio vedere una cosa perché arrivo ecco regà questa si vede malino ma purtroppo dobbiamo cercare una videocamera un pochettino migliore comunque se vedete dei trattinieri spero che si vedano se non si vedono mi dispiace i trattinieri sono i vari ml che voi andrete a metterci quindi partiamo con aspirando o comunque tirando su di liquido alla prima tacchetta che sono 0,5 ml e così via più piccole sono le boccettine e ovviamente più piccole sono le siringhette chiamatele un po' come volete e meno quantità di ml avranno quindi invece di avere 0,5 avrete 0,25 avrete invece che 0,1 avrete 0,5 e così via così avete anche più precisione nel mettere in questo caso gli aromi io queste qua le utilizzavo principalmente per far cosa? per andare a farmi gli aromi cioè i miei liquidi personali che poi quelli andremo a trattarli tra poco esatto come recitava una famosa famosissima pubblicità di qualche anno fa per dipingere una parete grande ci vuole un pennello grande per fare quello che di solito faccio io servono siringhe grandi la madonna pensa pensa che io la sto utilizzando per dar davvero al cane ti dico solo questo infatti questa è una siringa solitamente ad utilizzo veterinario vi faccio vedere una cosa interessante si trovano perché piccolissima premessa l'ago che trovate all'interno delle siringhe che comprate in farmacia è un ago tagliente molto appuntito quindi attenzione a farvi del male mi raccomando ma nel caso della glicerina vegetale essendo quel lago molto molto sottile non riuscirete a tirarla perché è troppo densa perché è troppo densa esistono degli aghi apposta proprio per trattare liquidi pensi e sono fatti così hanno un lume molto ampio il lume è il fuoro sono senza punta come vedete sono senza punta l'innesto è sempre quello di una siringa qualsiasi quindi basterà andare ad inserirlo e andare acciucciare la nostra glicerina vegetale dalla boccia più grande così abbiamo un'idea più precisa di quanta ne stiamo utilizzando e di quanta ce ne serve adattabile anche tranquillamente nelle siringhe da insulina l'attacco è il medesimo è sempre quello poi possiamo togliere anche la macro direi che tra un po' vabbè dovremmo utilizzarla mi dispiace per la qualità dell'immagine raga miglioreremo anche questi piccoli dettagli dateci tempo è solo la seconda è solo la seconda poi vedrete che porteremo cose assurde non vi preoccupate allora cosa potremmo ancora dire beh sugli scomposti direi che abbiamo detto praticamente tutto sì è stato detto passiamo ora diciamo alla parte che è un pochettino più spinosa che è gli aromi allora diciamo che il principio rimane il medesimo dello scomposto solo che vanno a cambiare le proporzioni perché invece di avere 10 ml e farci 60 ml quindi 10 ml di liquido di aroma scusate non ne faremo più 60 ma ne faremo 100 generalmente il rapporto è questo perché bisogna vedere cosa c'è scritto dietro l'aroma solitamente a divisione del 9,8 un 10,2% quindi è quello riassumendo è quello quindi dovete fornirvi sempre di boccia da 100 ml vuota glicerina vegetale glicole propilenico e il vostri o il vostro aroma quindi partiamo con le basi proprio l'agitatore magnetico ripeto non è fondamentale non dovete spendere tanti soldi se poi volete farvi per sempre liquidi voi in casa creando aromi strani prendetela che è la cosa migliore se invece non ne avete bisogno perché vi prendete un aroma ogni tanto e non dovete mescolarlo con altri aromi non serve dico solo una premessa rapida che il tempo di maturazione non è quello dei liquidi scomposti perché generalmente gli scomposti un giorno è già tanto quindi possiamo stare tranquilli in un giorno l'aroma cambia come ha detto prima anche Andre generalmente cosa faccio solitamente per i fruttati e i cremosi sette giorni di riposo e agitazione mentre per i tabacchi vanno dai dieci ai quattordici giorni quindi è un tempo di maturazione più lungo perché sono estratti e quindi ci metterà di più la Roma a andare a unirsi con la base e la base ecco poi regà non è detto che dobbiate seguire pedissequamente questi giorni io ho messo a maturare un liquido strafamoso che però a me appena fatto non è mai piaciuto scoprendo per caso che dopo nove mesi di maturazione una sorta di parto invece è diventato uno dei liquidi più buoni che io abbia mai svaffato e te pensa che mi è successa la stessa cosa a me con la I love popcorn io l'ho fatto con lo shinobi vale io ho preso il popcorn mi è detto liquido ai tempi era liquido il popcorn più buono del mondo io lo svaffo e sentivo burro cioè io lo svaffo burro era orrendo cioè provate la prima mattina a prendervi una fetta di burro e sfrancarvele in bocca a jempendo è orribile cioè è bruttivo magari c'è chi piace a me no per carità i gusti sono gusti anche io sei mesi tipo ho detto vabbè senza stare a buttarlo via lo torno a provare era diventato veramente buono cioè veramente buono quindi dipende dipende anche tanto poi sugli aromi appena creati magari c'è qualche aroma che scomincia già anche dopo una o due rette a percepire però se lasciate più tempo di maturazione sentirete anche magari le sfumature che ci sono dietro o percepirete più gli aromi che ci sono dietro questo è il tutto io io di solito faccio che come ho provato come preparo il liquido lo provo cioè lascio che che si sciolgano che esplodano tutte le bollicine che ci sono dentro e poi vado a provare il liquido fatto questo lo prendo lo metto via lo lascio 24 ore dopo 24 ore vado ad assaggiarlo di nuovo se mi garba lo svato se non mi garba lo lascio lì ancora un po' e torno a provarlo tra un paio di giorni 8, 72 una settimana non è un problema Alessandro dice il mio liquido ci impiega 12 mesi per la macerazione lama donna proprio incredibile aspetta noi non stiamo parlando di come estrarre il tabacco attenzione noi stiamo parlando di avere l'aroma già pronto tabaccoso e poi andare a metterlo nella glicerina ovviamente per andare a estrarre il tabacco ci vanno dei tempi infiniti e su questo siamo sicuramente d'accordo visto che si è toccato l'argomento io ci tengo a fare una precisazione estrarre degli aromi a non è una cosa semplice di e qui lo so che mi tirerò addosso tutte le ire del mondo soprattutto da parte di chi normalmente svapa i tabacchi la filtrazione non è sufficiente per togliere tutto quello che il tabacco si è portato dietro durante la sua vita le aziende che producono aromi le aziende che producono aromi hanno dei sistemi di filtraggio di micro di microfiltraggio di pulizia e quant'altro che noi a casa non possiamo avere qua entriamo nella sicurezza ragazzi perché qui è pericoloso qua rischiate una cosa molto simpatica che si chiama avvelenamento da nicotina perché se voi siete convinti che estraendo il vostro tabacco non ci sia nicotina all'interno mi sbagliate e la cosa voi dite vabbè se c'è un po' di nicotina in più lascia fare lascia fare che io l'avvelenamento da nicotina l'ho provato lascia fare e non è una bella esperienza io come un coglione non sapevo cosa avessi perché mi è stato dato un liquido a 3 di nicotina senza dirmelo io sono andato alla mia solita potenza lieve quei 160 watt che sono un amore cioè in quel momento mi è apparso un misto tra Mike Tyson Conor McGregor e Mohamed Ali che proprio hanno scagliato un gancio nel mio petto che è stato qualcosa di meraviglioso e io giustamente non sapendo mi sono sentito letteralmente stordito cioè veramente come prendere un pugno al petto e mi sentivo stordito mi girava la testa sudavo freddo mi veniva da vomitare avevo mal di pancia e come un coglione mi sono messo alla guida perché non sapevo cosa avessi credevo di stare solo un attimo male ma avevo 100 metri da fare sono arrivato a casa mi sono venute le vertigini non riuscivo a mangiare e questo mi è durato per due orette abbondante perché ho fatto solo una svapata cioè immaginatevi se non lo sapete la prolungate cioè rischiate veramente di morire e non è uno scherzo sicuramente rischiate di star male piccola premezza la morte seriamente sì sì no ma occhio sicuramente rischiate di star male non è poco ma sicuro sicuramente anche perché non tutti sanno che la nicotina è una sostanza presente nella pianta di tabacco come in tantissime altre solanacee esiste la solanina ne esistono veramente tantissime che ha una funzione specifica tenere i predatori lontani dalla pianta stessa quindi è una difesa e se non lo sapete ve lo dico e andate a cercare dove volete troverete questa risposta i peggiori veleni che esistono esistono e sono naturali quindi non giochiamo non stiamo giocando per quello io ho degli amici che fanno le estrazioni non mi ci metto a io non mi ci metto a farle b so che loro hanno studiato per poterlo fare si sono informati si sono fatti un ma così ci sono libri per fare queste cose per imparare a farle non improvvisiamoci piccoli chimici perché non è proprio caso perché voi stessi o i vostri cari Alessandro il mio liquido è un liquido della tabaccheria mescolato con vg beh ma appunto come abbiamo detto noi praticamente cioè certi liquidi vanno fatti riposare molto di più come quello di Andrea nove mesi come il mio sei come ad esempio il love popcorn mi hanno lasciato riposare sei mesi poi è sempre questione di gusti eh raga cioè lo shinobi c'è un'infinità di gente che lo svapa appena fatto e lo adorano benissimo benissimo a me personalmente appena fatto non fa impazzire mentre quando sta lì un mese o di più mi veramente mi piace da morire quindi provateli per quello che dico lo fate lo provate una volta provato se vi garba lo svapate così se non vi garba lo fate lo fate stare di qualche ora in più una giornata o due e poi è andata mani su 60 ml di liquido non viene tanto non ho capito lui ha detto probabilmente che su 60 ml se metti solo il glicerolo vegetale non fai neanche un 70-30 sì ma infatti nessuno ha parlato di 40 di glicerolo vegetale vabbè dettagli non è lo stesso non c'è problema vai hai già condiviso la live ovunque anche su faccialibro? sì su faccialibro è già stata condivisa allora io direi che potremmo anche passare alla parte pratica cosa dici? vai ti apro la macro mettiamo la bella grande così come abbiamo fatto prima mettiamo se riesci a metterla sotto perfetto allora ragazzuoli belli noi anzi io essendo stato un uomo fortunato mi sono stati inviati anche questi che sono chiamati baker in inglese baker servono a mescolarci all'interno i liquidini quindi adesso vi facciamo vedere come si fa simuliamo metto un secondo un commento che per qualcuno può essere interessante alcuni tipi di tabacosi ci mettono anche un anno per la maturazione tipo l'odicea il mazzei eccetera da retta a zio dopo otto anni di svapo ne so un bel po' Luca grazie per la precisazione effettivamente poi ripeto ognuno ha i suoi gusti io ti dico Luca io sono entrato nel mondo dei tabacchi da poco io mi considero un neofito dei tabacchi qualcosa come aromi guarda alzo le mani allora partiamo con la nostra preparazione quindi ci mettiamo adesso creiamoci un liquido stasera così tra di noi vado a prendere un paio di aromi e ci spacchiamo e decidiamo cosa fare e facciamo e facciamo i piccoli chimici con gli aromi ma gli aromi di aziende che li fanno che producono aromi guarda qua ne ha pochi il vise ne ha pochi gli aromi ne ha pochissimi prendiamo qualcosa a caso e allora in quanti siamo allora facciamo una votazione come sempre un voto a testa mi raccomando intanto facciamo quanti aromi ci mettiamo dentro massimo tre quindi votazione un mettete che cazzo mettete una A per uno solo una B per due aromi e una C per tre aromi dai vediamo vediamo cosa salta fuori poi li decidiamo assieme io dico B tu dici due io dico due ok allora io poi vado a pescare a cazzo potrebbe venire fuori satana con cioccolato e crema non lo so proviamo vediamo le votazioni C abbiamo due D cos'è la D non lo deve abbiamo anche una D va bene quattro sono mettiamolo qua non lo so C abbiamo per ora in vantaggio la C per ora in vantaggio la C con uno due tre quattro voti Davide vota satana anche no mi discorso mi discorso dal satanismo non sono io ah però abbiamo quattro vediamo quanti siamo in tredici hanno votato in tutto dai dai votate 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 cente votate telefonate telefonate tanto non abbiamo il telefono Davy ciao caro vediamo un po' ciao Davy allora ripetiamo per lui scegli se comporre un aroma con un aroma solo voto devi scrivere A con due aromi devi mettere B con tre aromi metti C dai dobbiamo fare una cosa proprio devastante stasera e poi scegliamo quali aromi e quindi con lo stesso sistema andremo a scegliere tabaccio no io io sai cosa farei io prendo una sgranfata di liquidi di aromi in mano dico fuori e poi votate voi cioè mettiamo che voi anche Davis vota C si noti l'unità di misura la sgraffata sgranfata ragazzi è come la pasta la pasta non va pesata va a sentimento notare l'unità di misura io direi che ha vinto C perché non vedo altre votazioni ha vinto C ebbene sì ha vinto C sgranfo eh sgranfa Gioele buonasera oh allora è venuto fuori rum giamaicano attenzione poi abbiamo non lo so buonissimo ed è anche vuoto quindi non vale questo non conta abbiamo poi coconut mix quindi mix di cocco già accoppiati non so male non è male dark caffè poi tabacco Havana qui cosa abbiamo crema pasticcera mela questo non conta lo cambiamo con un altro che andiamo a caso ok e vaniglia allora Andre se riesci a scrivere tu mi fai una cortesia perché la mia postazione è un pelo occupata stiamo procedendo allora abbiamo partiamo con rum giamaicano poi mix di cocco mettiamo caffè nero tabacco Havana crema di pasticcio quindi crema pasticcera mela e poi vaniglia mela e vaniglia ok qui sotto vi pubblico il mix esatto allora gente tre ognuno di voi deve scriverne tre poi vediamo quali sono i più votati e facciamo vediamo di fare qualcosa di decente almeno non che faccia vomitare ecco cerchiamo di tirarne fuori una roba decente ci siamo muniti della macro anche perché vi faremo vedere come funziona il michelatore quindi il michelatore nuovo che michela praticamente sì ma Luca non c'è la menta rum tabacco vaniglia attenzione liquirizia non c'è la liquirizia Luca devi scegliere tra quelli che ci sono che sono comparsi tutto il video ma è un burlone Luca secondo me ma lei è un burlone lei è un burlone mi consenta ripio ah poi abbiamo tabacco rum vaniglia rum cocco vaniglia mi sono permesso di votare anch'io crema pasticciona bello crema pasticciona rum e mela non è male rum rum ne manca uno rum crema di caffè ne manca ancora uno tabacco rum crema pasticcera e caffè ah ok credo credo sia inteso in quel senso crema pasticcera vaniglia e caffè attenzione perché ce ne sono già due crema pasticcera rum e caffè sta vincendo vaniglia però quello che ha più che si avvicinano è crema pasticcera è crema pasticcera vaniglia e caffè vediamo un po' cosa salta fuori crema pasticcera mele tabacco e cocco allora facciamo una roba ah cazzo ma non posso farlo io allora caro andrea del bigaton man no cosa cosa le dico lei chiuda gli occhi e clicchi a caso nella chat se riesci vai vediamo cosa salta fuori attenzione la nostra valletta è pronta a pescare non ci credo giuro non ho guardato riproviamo 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 vediamo perché dopo dicono che siamo dopo che dicono che siamo dei furfanti attenzione crema pasticcera vaniglia e caffè procediamo con questo per me va bene allora io intanto solitamente dovevo intanto però decidere quale sarà l'aroma principale io qua potremmo potremmo farlo noi cosa dici facciamo facciamo come si fa quando vai in gelateria il primo gusto è quello che fa da base allora crema pasticcera è la base poi c'è la vaniglia dobbiamo metterci 10 ml in totale facciamo una roba facciamo una roba figa no non è così che volevo farla facciamo una roba figa che tanto noi due già ci conoscono ci vedono facciamo così crema pasticcera vaniglia e caffè eccoli qua questi tornano nell'antro dei rovi bene abbiamo i nostri tre rovi quindi abbiamo detto bisogna fare attenzione però con la crema pasticcera perché è molto forte quindi io cosa cosa farei aspetta che sposto cosa farei io partirei con la crema pasticcera e farei come base 4 ml si sempre che ok 4 ml vediamo solo una siringhetta più piccolina perché quella lì è un pelo grossa e non bassa eccola qua di presto la mia oh la madonna il fermiere del male incredibile di presto la mia un attimo che odore di crema raga ma c'è odore di crema allora 4 ml abbiamo detto andiamo a pescare e ticchiamo dentro la nostra siringhetta 1,25 ml pian piano più 1,5 fa u quindi abbiamo 1,5 più 1,25 fa 2,75 quindi dovremmo metterci ancora cosa fai le domande di matematica a me cioè io l'ignorante l'ignoranza in matematica fatta a persona ok quanto abbiamo detto che era 2 2,75 più 1,5 sei a 4,25 fermati va bene va benissimo allora ok la crema c'è ora fate che appoggio tutto chiudiamo di nuovo la crema poi secondo cos'era il caffè secondo vaniglia allora se siamo a quattro mettiamo che siamo a potremmo mettere potremmo farli equi crema secondo me sì scusami vaniglia e caffè perché la vaniglia rischia di essere forte condivido quindi io farei quattro quattro potremmo fare quattro di crema quattro di caffè e due di vaniglia approvo via mettiamo prima la vaniglia infatti l'odore è molto molto forte ecco la vaniglia si vede ah la vaniglia ciula tra l'altro quella della TPA eh tra l'altro quella della TPA esatto ah ovviamente raga in questo momento diciamo che stiamo tra virgolette giocando in linea di massima è buona norma avere l'aghettino e e sciacquarlo certo ok e anche la vaniglia l'abbiamo sistemata cioè io quando li facevo per farvi capire che magari quando erano i tempi che volevo produrre il mio primo liquido quindi l'ho portato al VIP Italy l'ho fatto assaggiare in giro com'è tu Andre cosa facevo prendevo e ogni qualvolta cambiavo aroma sciacquavo la mia bella siringhetta in questo caso come dice Andre appunto stiamo giocando di conseguenza stiamo giocando stiamo creando un aroma e lo stiamo facendo diciamo abbastanza in maniera rapida di conseguenza non è che ci interessi più di tanto se si sporcano gli aromi perché comunque non muoriamo comunque in linea di massima ricapitolando Vise quando noi andiamo a cercare in qualche modo di farci il liquido a casa con gli aromi vediamo di base come volume il 10 ml io generalmente si se poi vedete che sono aromi tanto forti tenetevi più basso ad esempio se volete farvi non lo so un liquidi che sono non so marshmallow fragola cioccolato tutta roba super dolce te ne devi un pelo meno però nel generale si si tende a tenere un 10 ml ok ripeto Luca stiamo stiamo un po' giocando ecco per quello non pulisco la siringa allora io rispondo intanto in maniera ironica ovviamente a una domanda di Luca Bernardinis che chiede un atomizzatore a testine migliore per sentire i gusti mi permetto di rispondere io con non utilizzate gli atomizzatori a testine no beh c'è da dire anche una cosa adesso come adesso siamo fortunati perché hanno introdotto le mesh coil per chi vuole l'atomizzatore a testine con un buon aroma quindi siete anche fortunati allora io partirei aspetta eh ok perfetto un cestino allora io generalmente cosa facevo questa è una mia malattia mentale adesso che io ho messo il nostro aroma i nostri aromi io gli do già un'agitata adesso a basso a bassa mescolazione così che gli aromi si mescolino tra di loro come potete ben vedere sta mescolando wow tutto da solo quindi Andre possiamo tornare tra noi e poi andiamo a vedere il risultato ok voilà DJ Noises ciao a tutti ciao caro benvenuto allora adesso che abbiamo fatto questo lasciamo un paio di minuti che si come diciamo in frullano mescedi così gli aromi e poi andiamo ad aggiungerci glicerina e glicole propilenico una volta fatto questo torneremo a mescolare ovviamente il tutto così per ragazzi vi prego vi prego vi prego vi prego vi prego vi prego siamo in 18 mettete i like per favore noi non è che lo facciamo perché mettiamo i like noi dobbiamo capire se piace o non piace e vi invitiamo a commentare se stiamo parlando di questo argomento tirate fuori anche aneddoti storie ma commentate perché i vostri feedback per noi ripeto sono molto importanti sono fondamentali domande aneddoti divertenti perché siamo qua per parlare anche tra amici per berci la birretta e farci una risata quindi tirate fuori anche gli aneddoti ci divertiamo tutti insieme migliore io ti direi perché prenderti solo un atom quando vuoi prenderti una V for drag 3 che ha tutto hai l'atoma testine cioè che sono cartucce in realtà con l'adattatore ad atom cioè prenditi una una drag 3 fida o la X che è la sorella appena prima che è tanta roba anche perché facendo così col consiglio del vice e col mio cosa puoi fare hai una box da 177 watt che non sono pochini eh no fino a che non sai rigenerare o non hai voglia di rigenerare ti usi il loro PLP si chiama PLP PLP che devo dire io l'ho provato non è niente male nel momento in cui domani ti venisse voglia di provare a rigenerare a giocare hai già una box da 177 watt e ci monti sul tuo dripperino il tuo tank o quello che sarà ti riduci una spesa futura eh sì e non è male intanto abbiamo una bella domanda di Luca Bernardinis che presumo sia friulano perché è un cognome che secondo me è friulano volevo chiederti se compro l'aroma già fatto e metto la glicerina io posso usare subito il liquido giusto dipende cosa intendi come aroma già fatto cioè l'aroma già fatto intendi quelli che li trovi in queste confezioni qui in queste bocce con il packaging come quella che ha io o Andrea eh oppure intendi una roba del genere eh tipo questa quale intendi perché cambia la cosa cambia parecchio parecchio perché se hai codesto in generale devi solo metterci la glicerina come abbiamo fatto vedere precedentemente una volta agitato come questo come il mandi o come l'aroma quello grande o quello pic il primo ok questo qua devi solo metterci la glicerina e sei a posto se non svapi con nicotina devi solo ficcarci dentro questa intende aroma intende aromi concentrati sì perfetto no due domande diverse vise Luca Bernardini si riferiva esattamente a liquidi tipo il mandi tipo io avevo il milky mint ok gli aromi concentrati invece è quello che stiamo facendo praticamente adesso cioè solo che invece di fare questo procedimento qui metti solo i 10 ml che sono corrispondente a questa quantità aspetta che spengo così facciamo vedere questa è la quantità all'incirca di 10 ml super giù una volta che hai messo questi non serve che fai mescolare l'aroma perché l'aroma sarà già omogeneo tra per sé quindi solo metterci la base e una volta che hai messo la base lo agiti però devi aspettare ripeto super giù io faccio così tabacchi 10-14 giorni creme e frutte 7 giorni invece per te Luca una volta che hai messo la glicerina vegetale già dopo un'ora massimo un giorno l'aroma è già bello completo vedi comunque si sono di Udine Luca ormai io conosco conosco è un tuo vicino di casa è un mio vicino di casa assolutamente allora bisogna bere una birra onde evitare scusa Vise onde evitare fraintendimenti confusioni varie alla domanda di Davide Mugeo che chiede consigliate di comprare gli aromi già fatti per creare i liquidi in casa personalmente io ti dico compra gli aromi pronti nel senso quello quello di mio cugino che se lo estrae a casa con tutto il bene che voglio mio cugino glielo lascio sbappare da lui perché quello è comunque considerato un mercato nero eh sì se non c'è il marchio CE se non c'è il marchio CE con tutte le autenticazioni non è assolutamente vendibile di conseguenza che anche te lo regali è mercato nero è come se te lo stessi spacciando super giusto in un certo senso sì io adesso parlo solo per esperienza io vi dico che quando abbiamo prodotto il mandi con la Royal Blend noi il mandi l'avevamo già pronto super giù a marzo-aprile per far sì che abbia marchio CE che sia vendibile che passi tutti i test antitossicità che venga riconosciuto come liquido per sigarette elettroniche di conseguenza abbia dei certi valori vanno uno o due mesi cioè i liquidi vengono analizzati per questo adesso dal centro di veleni mi guarda esatto non non a casa cioè non non io per infatti i miei certifico che è importante questa cosa qui e per quello magari dice ma perché costa così tanto un liquido cioè voi non sapete quanto c'è da pagarci dietro ecco metto bg e pg che tra un po' esce il ciambellone aspetta ti dico Luca mortaccio amanecci come vai wow miglia adesso entri in giumanji proprio mi mi ciutta dentro anche a me quando quando facevo quando facevo musica e nuvole Luca Marchi era una delle persone che io aspettavo con più ansia perché è un fenomeno cioè quando c'è Luca a parte che è uno che ne sa un botto si vede è una persona che si informa è una persona che ci sta dietro tanto ma poi è simpatico io all'inizio quasi mi mi cazzavo tra virgolette perché non conoscendolo di persona pensavo che mi stesse perculando e scusate il termine invece poi ci siamo scambiati un'infinità di messaggi a una persona eccezionale io mi sono sempre scassato da ridere allora intanto leggiamo due messaggi l'aspetta Luca Bernardini è la Wismac Relox Dual com'è Wismac è Wismac cioè Wismac è una garanzia nel settore Giovanni Verzazzi anch'io di Udine Forza Donatello non gioco più nel Donatello io tifo blessanese cuore blessanese Luca Bernardini adesso ti faccio la domanda anche se so già la risposta visto che sento parlare la gente faccio questa domanda Fabio Mare la sigaretta elettronica o la sigaretta allora io dopo questa dopo questa io no no mi scoccio mi scoccio aperta apriamo una piccola parenti poi ci sarà anche una live secondo me potremmo fare anche un argomento simile perché ormai il nostro settore è letteralmente mitragliato di stronzate su questa cosa qui e quindi potremmo farci salutiamo Davis Neri intanto che va Davis un abbraccio grazie di essere passato grazie anche per il lavoro che fai vedendo l'emoji è un lavoro molto importante assolutamente ma anche in generale quindi complimenti in bocca al lupo e dai e forza tutta allora paragonare la sigaretta elettronica alla sigaretta tradizionale se voi andate a vedervi ci sono miliardi di persone che dicono la loro però per me sinceramente c'è una persona che ha spazzato via tutte le critiche sulle sigarette elettroniche e l'ha fatta ancora prima che uscissero e questo è un signore che si chiama Umberto Veronesi che secondo me Andrea conoscerà meglio nettamente meglio di me è stato se non ricordo male anche ministro della salute è stato ministro della salute era il direttore del del CEO il centro il centro tumorale antitumorale uno dei più importanti in Italia tra l'altro ma sono sono bazzecole queste ragazzi è una persona che ha sempre sostenuto fortemente il settore sigarette elettroniche perché anche lui sapeva studiandole che sono del 95 se non del 97% però attenzione sottolineiamo meno dannosi delle sigarette sentite bene addirittura il signor Umberto Veronesi medico è medico cioè quindi non uno che è diventato presidente di un è un ospedale cioè è enorme come centro era era un medico sosteneva che se si finisse la produzione delle sigarette normali cioè quindi quelle analogiche quelle a combustione per intenderci scomparirebbe il cancro al polmone ora questa questa affermazione la dice già abbastanza lunga no intanto scusami procedo solo a mettere la glicerina vegetale vada vada facciamo un esempio scemo ma davvero scemo banale in un certo senso nella sigaretta analogica quella che più o meno abbiamo fumato tutti esiste una cosa che è la combustione che produce diossina qualunque cosa venga bruciata produce diossina qualunque cosa produca cenere è stata bruciata così eh ok se c'è cenere c'è combustione se c'è combustione c'è diossina punto a parità di danno supponiamo a parità di danno qui la combustione non c'è quindi c'è già un danno ridotto però anche tu sottolineiamo un danno ridotto certo c'è già un danno ridotto io questo l'ho preciso perché perché ho avuto una discussione proprio su questo argomento hai preso ti ricordi che ti avevo detto sì 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 se non fumate svapare non ha senso è come attacchi pirina quando state bene non ha senso prego scusami ti ho porto vai no 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 interruzione e precisazione assolutamente doverosa se in più ci aggiungiamo dettaglio anche qui da non sottovalutare gli aromi con cui vengono prodotti i liquidi o gli aromi con cui noi in casa ci produciamo i liquidi attenzione sto parlando sempre di aromi legali prodotti da aziende certificate quindi con marchio cite sto parlando di cose legali nel momento in cui utilizziamo questo tipo di aromi o prendiamo l'aroma già fatto quindi ci prendiamo la nostra bella boccetta in negozio ci prendiamo la nostra boccetta c'è già dentro la composizione aromatica ci andiamo ad aggiungere le nostre le nostre vg pg e nicotizia varia abbiamo la certezza che queste aziende queste aziende abbiano svolto tutta una serie di controlli per garantirci che all'interno di quello che noi andremo a svapare non ci siano porcherie nella sigaretta tradizionale sono quattromila le 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 parti interne che fanno danno tra cancerogene velenose voi vi rendete conto che quello che usate per sterminare le formiche d'estate è presente dentro le sigarette il ddt lo trovate dentro le sigarette giusto per comunque sì qui non c'è quindi diciamo che noi qui abbiamo il gas con una pentola con dell'acqua sopra si è avviene una vaporizzazione quando l'acqua si trasforma in vapore è detta vaporizzazione chiamiamola perché nell'interno non abbiamo della combustione ma abbiamo le nostre coil che vanno a vaporizzare il liquido non c'è combustione per diritto di cronaca e provo giusto dirlo si parla di riduzione del danno non di assenza del danno si parla di riduzione l'assenza avviene solo quando come ha fatto luca smetti poi io personalmente volendo scegliere e potendo potendo scegliere se voglio continuare a fumare le sigarette o voglio farmi meno male e godermi una vastità di gusti di aromi di infinita deficienti che vengono a parlare la mia scelta è una è qui è questa è il vaporizzatore personale è il mio pv è la mia pod se vi piace usarla pod questa è la scelta poi se arrivi a smettere di fumare applausi arrivi a smettere di fumare arrivi a smettere di svapare meglio ancora applausi sì che poi è finalizzata quello la sigaretta elettronica non è andare solo a sostituirti a sostituirsi alla sigaretta tradizionale ma è proprio il compito quello di un giorno dire ok non ne ho più bisogno Luca Marchi come sempre puntuale serio quando c'è da essere seri ironico e divertente quando c'è da esserlo se hai intenzione di smettere di fumare prova a passare alla e sig queste ma se hai intenzione di sostituire le sigarette alla e sig non riuscirai mai a smettere di fumare in quel caso puoi passare tranquillamente lo scaldatabacco se proprio non hai voglia di smettere di fumare e qui torno a dire una cosa che probabilmente mi tirerò addosso un po' di odio raga scegliere di darmi una martellata su un piede o una martellata su una mano non è una scelta cioè onestamente non è una scelta posso scegliere dove farmi più danno o meno danno ma no non ha molto senso se devo scegliere smetto di fumare per come la vedo io per come la vivo io c'è un'alternativa che è lo svapo non è il riscaldatore passare all'ISIG è una scelta è una presa di coscienza è una scelta che tra l'altro non è facile l'ISIG non ve le lega le mani dietro la schiena per evitare che vi accendiate la sigaretta quindi è una scelta che va rinnovata più o meno tutti i giorni ma soprattutto c'è anche da dire che se non avete la convinzione come ha detto Luca di smettere non smetterete mai dovete volerlo veramente comunque Vito ho letto fai partire l'aggiatore prima di far partire l'aggiatore volevo farvi vedere una cosa se puoi ingrandirmi la macro allora prima di far partire non l'ho fatto partire per questo perché se vedete si è creato sopra sembra che ho fatto la pipì e sotto anche nel mezzo è bianco questo vuol dire che l'aroma in certi punti è più leggero o meno leggero quindi vuol dire che c'è una separazione tra aroma glicerina e glicole per questo noi vi diciamo di agitarlo quando lo agitate andate ad unire l'aroma con il glicole e la glicerina come fa poi Andre che in questo caso lo mette sul termosifone andrà ancora come ha detto lui le molecole andranno ad unirsi ancora meglio adesso io faccio partire e voi vedrete che pian piano va ad unirsi tutto si creerà il vortice eccolo guardate guardate che bello che è minghia cadrina e gabido eccolo qua adesso guarda velocità massima va liquido dappertutto adesso dico una cosa lo vedi il buco nel senso questo è il vortice che si deve creare con ovviamente con l'agitatore magnetico ripeto non è fondamentale avercelo se ce l'avete meglio se avete la possibilità di fare la spesa comprastevelo e una volta che l'avete comprato lo mettete in funzione questo serve a ridurre i tempi di attesa e soprattutto riesce a unire meglio aroma glicerina e glicole questa è la funzione di questo utensile potete lasciarlo così anche come una famosa sigla giorno e notte giorno e notte 24 ore in funzione potete usare anche qui tutto il giorno 24 ore su 24 e lasciarlo lì che si vada ad agitare molto molto bene se invece ogni tanto volete farlo riposare lo spegnete dopo una mezz'oretta un'oretta lo riaccendete così che le molecole un po' si riposino e un po' tornino inattivo quindi adesso andiamo a aspettare poi andiamo a vedere alla fine live in questo caso io ve lo sposto più in avanti così così lo vedete meglio io non riesco di ribartarlo sul computer e a fine live vediamo che colore ha preso vai andre possiamo tornare io e te torniamo così così chi vuole si vitalizza esatto e si ipnotizza col vortice si ipnotizza col vortice ho fatto oh il vortice è incredibile allora Giovanni che scuola facevi ragazzi ho fatto una scuola che è una scuola di vita dove non c'è una materia principale per il quale si va generalmente a scuola che è una cosa chiamata donna sono fatto il bearzi ho fatto una scuola professionale c'erano due ragazzi in tutta la scuola sembrano più maschi di me quindi no beh per l'amor di dio sono scelti di vita però a vederle così oh io non ho niente contro di loro anzi simpaticissime ok però se devo cercarmi una ragazza no però comunque erano due ragazze poi sono arrivate dopo quando ero già in terza quindi ormai ero ero troppo grande diciamo e ho fatto tre anni di CFP bearzi oh Danilo Sparaccino fa una domanda prima di mettere nel PV c'è bisogno di agitare il liquido è meglio io io l'ho fatto con gli aromi quindi puoi aiutare se fai un connubio di aromi ripeto se l'aroma è uno solo se un liquido scomposto non ha assolutamente senso cioè fallo solo se fai un connubio di aromi io ad esempio quando per dire dopo la notte prima di andare a svappare il mio il mio adorato white edition lo chiudo mi do una citata e poi per tutto il resto della giornata no anche perché bene o male ci ripasso sopra quindi lo giro e lo capozzo ma in generale lo faccio di no alla mattina appena svegli Luca anch'io ho fatto il bearzi professionale hai ragione ma in che anno hai fatto il bearzi perché attenzione potremmo essere stati anche a scuola assieme nel senso magari io ero al terzo anno e tu al primo ci potrebbe starci compagni di scuola io sono del 96 se magari tu sei del 98 99 potrebbe anche starci potremmo esserci anche visti solo che evitate di fare domande sull'età al vise perché tutte le volte io ritorno inevitabilmente al concetto che potrei essere suo padre ma sono dettagli quelli importanti dentro e fuori scusa non ho finito l'anno scorso ok allora aspetta adesso scusatemi se esco dall'arco io adesso voglio sentire chi erano i tuoi professori scrivimi solo il cognome viner viner piaci viner mi sa molto di capo germanico non so perché mi fa questa non so so che lui non è non è non è della tedeschia non sei della tedeschia neanche della germanica in compenso in compenso a parte essere un amico eccezionale ma è anche uno che fa delle cose c'ha delle mani che sono enormi c'ha davvero delle mani grosse ma fa delle cose con quelle due mani lì che raga mamma mia che cose che fa cosa fa cosa fa cosa fa perché in realtà può suonare anche male così eh costruisce con le sue manine costruisce delle e sig ah è un modderista costruisce delle pipe azz toniche ah è quella è quella che hai tu maledetto la voglio anch'io adesso subito e crea veramente delle opere d'arte tra l'altro io gli ho stressato gli ho stressato l'anima fino mai perché l'unica che ha fatto da 25 millimetri è la mia andrei facciamoci fare una limited edition con la tazza da 52 millimetri e 8 guarda che tu ci ridi ma mi hai chiesto eh sì mi chiede la pipa diametro della pipa è così ne avevamo parlato così cazzo è fantastico allora sto guardando adesso i prezzi degli agitatori si stanno in tutti intorno alla cifra di un centinaio di euro io sono stato fortunato mi hanno fornito tutto con ex collaborazione con farmacondo però i prezzi bene o male sono proviamo a fare agitatore magnetico per i liquidi è vero ho chiesto pure la doppia dna 300 perché poteva starci tra pipa va beh sembrava a me sembrava una cosa carina credevo che stessi per dire potrebbe essere un'idea no no io me l'ho chiesta davvero gliel'avevo già chiesta poi vabbè allora sì la cifra ripeto è sui centinaio di euro se avete la possibilità e volete crearvi sempre liquidi fatevi sta spesa poi sì non so quanto sia utile per voi ecco se non vi serve basta agitarlo a mano mi piace il messaggio di Viner perché mi dice non sono tedesco ma mi piace la patata in questo caso mi associo mi associo volentieri buon gustai Allora Aliexpress te lo costruisci per sceglierne una devi andare allo Z ragazzi ormai io sono già accoppiato convivo ormai la scelta è già stata fatta è stata fatta tempo fa ma adesso vi racconto facciamo diventare anche una live un po' divertente come avevamo promesso cioè io posso garantirvi che dopo che sono stato tre anni lì dentro minchia mi sarei bombato anche la prima cosa che respirava avesse i cappelli lunghi cioè ragazzi veramente era una roba ma è vero guarda che è capibile solo a chi fa il professionale che non c'ha ragazzi davanti alla scuola si trovava un gruppo di metallari quindi con i cappelli lunghi ma non erano d'accordo guardi io ti dico quando uscivi da lì veramente ti bombavi qualsiasi cosa cappelli lunghi e ci avesse una cosa che noi uomini non abbiamo ho detto mi sono contenuto una cosa che noi uomini non abbiamo cioè c'è 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 bombata io posso garantirvi sono a volte sono andato con certe cose che non credevo fossero umane sono sincero ma dai non si può non si possono dire queste cose giusto allora come possiamo definirle nascere belli non è una scelta allora diciamo così non tutti nascono belli come me il mio problema qual è che sono nato brutto ma con dei buoni gusti e questo è il mio problema si scontrano e cazzo io per l'amor di porto le mani avanti ho scelto bene adesso sto giusto adesso non hanno contrastato con una relazione dopo sei anni quindi sono nel giusto adesso ma precedentemente contrastava la cosa era proprio niente assurdo leggiamo un po' di commenti che è meglio Giovanni allora ho visto dei video su youtube come creare agitatore magnetico in casa secondo voi non fate le cose fatte in casa ragazzi perché se poi succede qualcosa so cazzi sì non giochiamo davvero allora piuttosto andate su aliexpress lo comprate e ve lo costruite ma ci sono le istruzioni che almeno quelle no siete tutelati voi cioè le mani sono importanti raga sono le vostre cioè raga sono le vostre Gioele tra quanto sarà pronto il liquido allora oh è arrivato alfo ciao alfo è arrivato alfo si è ricordato che c'era al live ciao alfo i messaggi su whatsapp di live perdono alfo lo faremo promesso allora tra quanto sarà pronto il liquido essendo un mix diciamo tra creme e frutto cioè creme principalmente vaniglia sette giorni quindi prossima settimana con il prossimo argomento lo proverò e poi te lo invio così vedi anche tu cosa è uscito fuori si volentieri volentieri allora comprare una boccia da 100 ml e lo ficchiamo lì aspetta prof confermo con i miei prof picco grande il picco la perrone mamma mia e la morena allora allora cara fagli vedere questo pezzo cara professoressa perrone io la saluto e le faccio i miei più cari complimenti la perrone caro Andrea per delle degli studenti rinchiusi all'interno con solo manici all'interno di questa scuola diciamo che la professoressa perrone veniva vestita non so se viene tuttora vestita così in maniere molto come dire gradevoli ok e questa professoressa non era a me non piaceva come insegnava però ragazzi cazzo quando entrava la perrone va bene avere la prof perrone è tanta roba è tanta roba ma ma vi racconto solo un piccolo aneddoto poi non vi rompo più torniamo sui liquidi io mi ricordo che un giorno ero stra distratto ho beccato il segno per culo e mi ha detto visentini leggi dove siamo arrivati guardandola i modi in cui si veste sono molto succinti e onestamente è anche una bella donna non so se lo è tuttora poi può essere cambiata non lo so o abbassai lo sguardo trovai subito il punto di lettura in inglese che ne insegnava inglese e partì da the black bird e lì non riuscì a contenermi perché era troppo è stato un caso calzato a pennello e quindi non riuscì più a contenermi mi sentì mi stai male e sì faccio andare avanti qualcuno o sì chiudiamo l'aneddoto allora il liquido è ancora qua che continua ad agitarsi gli spasmi allora alfo vediamo cosa sto scrivendo per questo cerco di farmi spedire non ho niente da spedire per questo cerco di farmi spedire meme della mia classe biologia persone infame 100 euro per un agitatore il PLA PLA penso in PLA ladri eh ragazzi purtroppo guardate che l'agitatore costa questo è comunque io chiedo una cosa ad alfo ah è alfo alfalo alfo ma sei arrabbiato con me io ci rimango male è arrivato ha salutato te io a me è simpatico alfo no mi ha detto mi ha detto ma dio vise nel senso perché non gli ho non gli ho mandato il messaggio su whatsapp ah ok allora ho capito male io chiedo scusa raga siamo in 18 qualche domanda su liquidi aneddoti anche divertenti dai andre partiamo su qualche aneddoto divertente se ti è successo qualcosa con i liquidi divertenti almeno facciamo ridere un po' le persone ah beh aneddoti divertenti con i liquidi ne sono successe una marea il primo che a me succede ancora oggi a volte è di tappare male la boccia da 100 ml e e mi sovviello eterno e mi sovviello eterno letteralmente diciamo che lo porti sempre con te lo associ a qualche animale ogni tanto ma pur sempre lo pensi sì 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 assolutamente sempre nel mio cuore fondamentale e anche nei pensieri quindi quella è una cosa che è successa voglia ma anche i tentativi che più o meno abbiamo fatto tutti in cui pensi che per fare riprodurre un liquido alla vaniglia basti prendere la base ci metti dentro la vaniglia e hai fatto il liquido scoprendo poi che non è così però hai tirato fuori un bel argomentino anche questo la ricreazione che non è quella che si fa a scuola ma come ricreare i liquidi ragazzi non è che se voi pensate vi faccio un esempio noi quando facevamo ancora creazione di liquidi ricreare il Tupaf è stato veramente cazzuta come cosa la roba impegnativa la vedi la vedi cosa ti dice Alfo leggi cosa ti ha scritto Alfo apro la boccia fico dentro Aldvar più su più su sopra Gioele aspetta ma tu sei più simpatico di quella persona lì di lato no non è vero poi di quella persona lì di lato è un casino di volta è un casino io lo vedo alla mia sinistra ma indico a sinistra e lui indica a destra quindi è un casino ma allora la ricreazione di liquidi cari ragazzi non è tanto semplice quanto voi la pensiate attenzione perché per ricreare un liquido dovete fare svariate prove e poi non è che se un liquido c'è scritto che ha cracker e pera dentro come aromi ci sono solo cracker e pera attenzione io ho saputo uno spoiler che in uno dei liquidi che io adoro o meglio forse quello che che in assoluto ho svapato di più è che sto svapando tuttora ho avuto la notizia che mi ha scioccato che ci sono dentro tredici aromi diversi per creare la magia mettiti in singolare che vado un attimo su e arrivo sì grazie no scusate ho sbagliato per creare la magia di questo liquido che io adoro ci sono all'interno tredici aromi quindi raga riprodurre liquidi soprattutto liquidi di grande successo di grande fama non è semplice anzi è molto complicato per quale motivo perché fai il video kickbait cosa c'è nel the one edition o come si chiama spedite allora il white edition detta così è un biscotto con crema al cioccolato bianco inzuppato nel latte apparentemente uno dice vabbè io ci metto dentro biscotto cioccolato bianco e latte la difficoltando sta ah che anche ammesso che gli aromi utilizzati siano solo questi tre le dosi ovviamente non le saprete mai cioè chi ha inventato questo liquido le dosi se le tiene strette come le insomma se le tiene strette come una delle cose più preziose che abbiamo quindi già quello è il primo problema in più per chi produce liquidi in un certo senso è un dovere rendere la cosa passatemi il termine difficile perché se no ognuno se lo rifà a casa sua e quindi ci si può avvicinare magari sì magari ci si può avvicinare ma sicuramente ricrearlo tal quale è veramente cosa ardua per fortuna oserei dire a dolcezza come sta maestro che magari vado a derubare qualche negozietto sperando di trovarlo eh amico mio calcola che io in solo nel mese di gennaio ne ho svapato un litro e non a caso eh già non sto dicendo un litro per dire tanto ne ho svapato un litro davvero ne ho svapato un litro è il liquido che in casa mia non deve mai mancare mai perché ci inizio e ci finisco le giornate con con quello poi in mezzo posso variare ma io mattina e sera prima di andare a nanna devo svapare white edition aspetta stai buono luca marchi white edition mamma mia quanto è buono ne sono felice che piaccia altro che allora aspetta che torni indietro un attimino sono perito elettronico agitatore fan 24 magneti neodimio termostato trasformatore 200 watt 24 volt benissimo luca me lo fai ovviamente te lo pago ci mancherebbe ovviamente te lo pago danilo sparacino se devo fare un liquido a 4 di nicotina quante bocce di 10 ml devo mettere su una boccia da 60 indicativamente una e mezza in realtà una e un po' meno di metà dell'altra detta a spanne allora allora lavorart è una buona marca per gli aromi concentrati direi di sì direi di sì ce ne sono tantissime tantissime no non è vero di un mio ce ne sono un po' lavorart offre una gamma molto ampia e si fa parte sicuramente di fa parte sicuramente delle di quelle di quelle importanti non so cosa sta succedendo ecco ti cosa mi sono perso non ho capito cosa stava succedendo stavo leggendo un po' di messaggi ok ad esempio luca bernardinis box per atom cerberus accetto consigli non conosco il cerberus quindi qui neanche io conosco il cerberus sono sono un po' ignoranto in merito hai visto per caso la magia sta nel mezzo guarda mi dici chi ti la spedisce ah no questo l'ho già letto faccio lista della spesa ah c'è se ti piace se ti piace il latte menta te ne consiglio un altro ma bisogna vedere se ti piace io lo adoro chi è macro no Marco mi sono scassato da ridere chi cazzo è macro allora prima prima che tu cominciassi a leggere i commenti e mi assentassi abbiamo parlato della ricreazione di liquidi che ti ho detto che non pensavi ci fossero tanti liquidi tanti aromi all'interno di un liquido giusto esatto quindi se voi pensate come ha detto Andri di ricreare la vaniglia con solo la vaniglia non è così cioè ad esempio se voi volete farvi ad esempio il two puff potrete riprovare con gli elementi che voi pensate che ci siano dentro e non ottenere mai lo stesso risultato lasciando stare che c'erano delle sostanze che all'interno adesso non ci sono più ma comunque non riuscirete mai a ottenere lo stesso risultato per il semplice motivo che ci sono degli aromi che le dite giustamente tengono nascoste per evitare che appunto i liquidi vengano anche ricreati giusto perché se no sembra che sia una roba terroristica quello che c'era dentro che è stato tolto è il diacetile il diacetile quindi il diacetile è quella quella cosa quella nota burrosa tipica dei liquidi pre-tipidi esatto evito di dire la mia personalissima opinione in merito ma se volete ve la dico in privato scrivetemi in privato ve la dico tanto ragazzi dovete seguirci come ripeto c'è anche su instagram c'è anche su qua su youtube siamo sul suo canale se non vi siete ancora iscritti siete delle brutte persone quindi sono orribili ogni praticamente ogni giorno c'è quasi un video senza quasi c'è un video ogni giorno quindi io in linea di massima pubblico lunedì e mercoledì di solito poi c'è la live del martedì con l'amico Vise sto cercando di pensare qualcos'altro da portare sul canale vedremo in futuro sul canale del Vise invece c'è un sacco di roba veramente un sacco tantissima roba voglio instabilire qualche live anche sul mio canale perché voglio voglio ritornare anche in live però il problema sarà i giorni o dobbiamo provare a fare una cosa tipo alternare un martedì a capoccia anche perché no perché sai cosa potrebbe essere divertente una facciamo ad esempio dopo che abbiamo fatto questa martedì prossimo facciamo sul mio e così riesco ad allegare il link del tuo canale youtube sotto così almeno la gente viene a iscriversi e il martedì dopo abbiamo anche più gente va benissimo sarà fatto quindi martedì prossimo siamo da te martedì prossimo siamo a casa tua martedì prossimo siamo a casa mia quindi segnatevelo indirizzo youtube il mio angolo della svapo martedì prossimo ci trovate lì poi lo facciamo lo facciamo sapere ovunque e andre dato che siamo quasi all'ora all'ora x dobbiamo ragionare anche sul sondaggio da fare che non sarà facile e decidere cosa di cosa parlare martedì prossimo siete in tredici dai voglio sentire sicuramente qualcuno di voi ha qualche anedoto o come anzi facciamo così parliamo di liquidi qual è il vostro liquido preferito facciamo come in radio facciamo che facciamo l'argomento del giorno l'argomento del giorno qual è il vostro liquido preferito chiamate anzi commentate nel frattempo diteci anche di cosa vorreste sentire parlare due ciarlatani come noi martedì prossimo ditecelo ditecelo vise offri una birretta danilo sbaraccino chiede la birretta finita con vise vise e alcol no ma è colpa di andrea anche provo a bere queste birre che sono buone e mi ha portato in un vortice molto piacevole ragazzi è uno spettacolo la birra guardate che per un friulano dire che la birra la preferisce al vino non è facile ma le birre che sto bevendo ultimamente hanno una qualità tra l'altro devi provare tu se la trovi da qualche parte quella che io bevo ogni sera praticamente che è di una ditta che era una ditta chiamiamola privata ed è adesso stata presa dalla Heineken da poco e fa delle birre che sono secondo me spettacolari veramente buonissime ok allora angeli e demoni della tabaccheria ok ma io lì maiamo maiamo questo ritmo che ti viene in bainamo oh Luca Gun e venti di nicotina ma sei pazzo al massimo 1,5 assolutamente quando ti svapi venti di nicotina non diluita su Gun è brutto direi che non è solo brutto è pericoloso allora Davide dice invece i miei liquidi preferiti sono MK Ultra del Santone e Heisenberg sto per comprare per la prima volta Almandi perché sono curioso grazie grazie è un ottimo acquisto bravo non l'ho pagato quest'uomo signori lo sa lo sa no è vero io ho sempre detto quello che penso fondamentalmente ma guarda io ti dico secondo me a volte non penso questo è un problema diverso ma questa è un'altra storia però è meglio se ci pensi perché non ci sono filtri no siccome siccome ho un po' di anni in più di te i filtri sono arrivati per forza ah ok non li volevo non li volevo sono arrivati uno di questi si chiama demenza senile l'altro è l'Alzheimer quindi molte cose le dimentico e quindi non le posso dire allora la cosa bella del mandi secondo me è la cioccolata perché è una cioccolata perché Andri mi ha detto guarda io sì te ne parlo però sai la cioccolata a me non è che piaccia tanto quindi non so come potrà uscire non so se mi piacerà però la cioccolata del mandi secondo me è molto molto singolare è molto unica è vero è verissimo ma poi c'è c'è quel mais particolare che ti lascia un gusto particolare in bocca raga è da provare cioè non ci stanno parole c'è da provare raga Vito dice God Explosion TNT non l'ho mai provato però dal nome mi sa di cazzutissimo neanche io l'ho mai provato visto che la prossima settimana siamo a casa tu avvise qualcosa ci si offre assolutamente prova a farvela passare dalla webcam però è difficile raga non è ancora mai riuscito mi spiace io sto cercando di prendere il mandi senza pagarli invece ma sai Alp che a te per i lavori che ci stai facendo ti arriva e ti dico è da Natale che io sto cercando il tempo di spedirti il pacco ma ho avuto casini su casini e non sto scherzando parlavo prima con Andra appunto dei vari dei vari bei momenti che ho passato dopo Natale è stato fantastico tutto allora Giovanni il mio liquido preferito è il two popcorn e il il Ben Juice è quello al tè della no aspetta Ben Juice è la marca quale della Ben Juice Davide Mugello allora Davide Mugello se tu hai provato tante cioccolate quando avevi provato il mandi mi scrivi in privato e così vediamo cosa ne pensi Gem Monster Blackberry mamma mia che buono che è quel liquido ma il mondo è anche buono da guancia sì sì allora so che per sentito dire io non svapo di guancia io ti dico tanta gente lo ha provato prima così com'è quindi il mandi naturale e poi ha provato ad aggiungerci una goccia di latacchia e dicono che sia molto molto buono quindi provatelo da guancia anche normale se poi vuoi provare lo metti con una goccina di latacchia non nominare Gem Monster in presenza del suo vado Instagram va benissimo anche su Instagram Luca Marchi intenditore l'odicea e mazzei e il miss che io non conosco sono tabacchi credo conoscendo Luca credo siano tabacchi in flavor white edition vince a mani basse sto scrivendo il mio il nome di Instagram così almeno può scrivermi del bafometto mi faccio 9 ml di mandi e uno di bafometto nel barb deve essere buono come cosa nel codex tabacco Tascan Tuscant biscotto e caffè allora ascolta me Andre questo lo dico più per te per la regia prova e provalo anche tu anche se è un tabacco fidati di me il club cigar di fine svapo ok è un tabacco con un'estrazione molto perché sono dei tabacchi tabacco Havana principalmente con un'estrazione molto particolare estratto anche quindi il tabacco viene messo a macerare insieme al caffè ma no il caffè in polvere i chicchi di caffè e viene estratto tutto insieme interessante guarda il 90% di liquidi che io ho provato che doveva essere tabacco e caffè il caffè era chimico cioè sentivi la chimicata proprio ignorantissima che non era buona lì senti la tostatura del chicco di caffè ottimo andrò andrò a cercare è un aroma però eh è un aroma è un problema è buonissimo io lo svapo sul sigaro che c'ho un amore andrò a cercare intanto alfo aspetta il ruolo da moderatore esatto si potrebbe fare però devi essere puntuale ogni martedì alle ore 22 non ci sono gazzi hai capito a 22 tu puoi essere puoi anche star facendo cose con l'amoroso col moroso dobbiamo devi mettere lì tutto e essere in live no io sono il moderatore silenzio a tutti Ivan ciao Ivan eh Ivan grandissimo il daidone seguo i due su instagram davide grazie mille la creme insomma come si chiama storm al caffè sigar club biofficine svapo è tanta roba pensavo fosse minchia alfo ho fatto un calendario però l'altra volta pensavi forse mercoledì e oggi pensi che sia lunedì e cazzo alfo è una persona impegnata e di conseguenza ogni tanto perde il conto dei giorni guarda allora ragazzi perché non conoscesse alfo alfo è colui che ci dà una mano con le copertine ci fa le copertine le copertine è per questo che io sto cercando di spedire sto cazzo di pacco per ricompensarmi in quello che ci fa perché è il minimo che io posso fare è un grande cioè le copertine come le fa lui ne parlavamo l'altra volta ne parlavamo con dei lavori eccellenti non è facile io posso garantirvi che io non riesco intanto Andre facciamo una cosa incredibile come direbbe Piccini eccezionale veramente andiamo a spegnere spegniamo il liquido che gira e adesso se voi osservate il colore è uniforme esatto è tutto giallo e la densità io la testo solitamente con il siringone qua il cristere densità ho fatto abbastanza liquidino quindi onesto molto buono eh sono curioso di testarlo adesso nel frattempo vi faccio anche vedere vi ricordate la densità di questo liquido di cui abbiamo parlato era sul termoschifone come vedete ora è molto più liquido ecco quando è così ennesima agitata ignorantissima decisa molto decisa dopo di che si mette a riposare qualche ora qualche giorno io vado sul sicuro questo è un liquido che conosco molto bene quindi vado sul sicuro anche se lo lascio lì due mesi non cambia è buonissimo così ma questo è un giudizio personale lasciamo fare lasciamo fare questo è il latte menta esatto alfo questo qui è il latte menta se mi è permesso di tanti io adoro il latte menta è una delle mie bevande estive preferite la cosa bella di questo liquido a differenza di tanti che ne ho provati è che qui la menta è menta e il latte è latte cioè non c'è la liquirizia non c'è qualcos'altro nella maggior parte dei casi io ho provato dei latte menta e dopo qualche svopata in bocca sentivo la liquirizia che a me piace anche però non è quello che è perché nel latte menta ci devo sentire la liquirizia questo è latte menta dalla prima svopata all'ultima Ivan io ti dico questo per entrare in live con noi queste live diciamo che noi le facciamo da soli perché dobbiamo parlare di un argomento specifico se abbiamo una terza persona andiamo a dilagare già così dilaghiamo l'inverosimile dato che ho la mezza idea devo capire quando e come riportare il web bar lì potrebbe esserci l'occasione quindi si potrebbe sì assolutamente è piaciuto tantissimo c'è Alfo che Alfo ragazzi io posso garantire che se fa ciò che mi ha scritto in privato che è quello di fare il best of del web bar delle puntate del web bar io posso garantirvi che viene nominato iscritto del secolo del mio angolo dello sval perché no ma anche perché ce l'ha morire da ridere ma la cosa principale è che voi non capite una live per andare a fare l'editing di una live la live non è un video che dura 10 minuti cioè le live erano di 4-3 ore 10 guardartele tutte per far una cosa e tagliare mia io io vedo che Luca Marchi come sempre non mi delude mai Luca Marchi lo adoro una cosa molto interessante e detta da una persona che di tabacchi se ne intende i tabacchi da sigaro vanno svappati a 80-90 vat e non in MTL io ti adoro perché l'ultima volta che ho detto di provare anche a svappare in Cloud o in Flavor un pochino più spinto i tabacchi sono stato fucilato sono stato commerso da una sorta di shitstorm dicendo che io non capisco niente di MTL ed è vero io non ne capisco niente di MTL però dico io ho provato credo lo scibile tra i 24 mm e i 52.8 le differenze si sentono quando aumenti la campana indipendentemente se sali o meno dai vattaggi ammettendo le stesse coi l'aromaticità è diversa ma tanti non mi credono la gente a volte è assai malefica e questa cosa ragazzi io vado a Nanna è stato un piacere mi segno il martedì ciao Vainer buonanotte grazie ancora di essere passato grazie mille oh allora caro Andre dato che siamo arrivati ormai quasi a mezzanotte sono le 52 sì direi che possiamo anche chiudere salutando dobbiamo decidere l'argomento però aspetta l'argomento deve fare il sondaggio ripropongo i tubi ok allora da una parte abbiamo gestione tubi meccanici pulizia ok dall'altra cosa possiamo metterci pulizia box eh ma pulizia box non è no è impegnativo c'hai ragione no non è quello più che altro è cioè da smontare lì vai già un po' più sul sì è vero è vero non è facile potrebbe essere il mercato nero potremmo parlare sì di mercato di mercato nero e mercato legale facciamo io propongo mercato nero versus mercato legale e tu hai detto tubi meccanici gestione pulizia lo stieni tu così puoi mettere in evidenza scriviamo subito vai così facciamo e io intanto che tu scrivi io intanto rigenero il Da Vinci e voglio provare un pochettino di liquido anche se adesso è sicuramente presto già per capire e quindi tanto lo proviamo per sicurezza l'odore posso garantirvi che è molto particolare perché c'è una bella unione tra crema di crema pasticcera e caffè oh allora ragazzi siamo arrivati al momento decisivo momento catartico signori il momento è catartico al momento catartico momento catartico dovete votare ripeto un voto a testa cosa volete vedere nella prossima live che verrà fatta nel mio canale youtube ok tubi meccanici abbiamo il primo voto tubi meccanici per giovele due tubi meccanici attenzione vediamo un po' ragazzi votate perché se no dobbiamo chiudere la diretta tubi anche Ivan attenzione i tubi 3-0 clamoroso facciamo così per aiutare alfo lo dice tubi attenzione tubi nettamente in vantaggio 4-0 sì ma anche l'altra volta eravamo partiti bene vanno vetti liquidi è che secondo me sai cosa il discorso il discorso tubi un altro 5-0 tubi il discorso per me nel mercato nero la gente un po' tende a sottovalutarlo nel senso non capisce cosa ci sia dietro però comunque tubi è molto importante i tubi guarda paradossalmente ti posso dire che anch'io visto l'argomento che hai tirato fuori parlerai volentieri del mercato nero e del mercato legale ok questo non vuol dire che non si possa fare assolutamente perlomeno visto che ne abbiamo già parlato un pochino anche oggi ne parleremo sicuramente no ma anche perché secondo me il mercato nero in tutti gli argomenti può essere collocato cioè è soprattutto un argomento come tubi meccanici cioè i ragazzi il tubo meccanico ecco ci capiamo così diciamo il terzo argomento convertire Andrea all'MTL è come dire Rocco Sifreddi è come chiedere a Rocco Sifreddi di diventare gay un po' impossibile secondo me ok bella come battuta bravo allora 4.0 tubi poi ragazzi allora ripeto anche per quelli che sono qui ciao Marietto82 dice anche lui ciao Mario è arrivato il primo voto su mercato nero di Vito bravo Vito allora ricordo sempre i sondaggi in realtà sono già due i voti eh su mercato nero e lecale anche Danilo ah ok scusa Danilo allora quindi ricordatevi sempre una cosa però chi vota qui dentro chi vota sul tubo deve essersi deve trattenersi a votare sul mio YouTube e anche sul mio Instagram e sull'Instagram di Andrea perché se no ci sballa i voti l'altra volta cioè oggi non abbiamo avuto difficoltà a scegliere l'argomento perché hanno stravinto i liquidi sì davvero stravinto e quindi non abbiamo avuto difficoltà non abbiamo dovuto fare il conteggio eh dice guarda Telegram questi cazzo no guarda Whatsapp ah Whatsapp aspetta cazzo eh Alpo non mi hai mandato una minchia ragazzi a me a me dispiace dover chiudere la live ma devo fare una cosa importantissima devo editare il video che ho registrato oggi per domani Alfa non mi hai mandato nulla perché l'ho fatto l'ho girato oggi e siccome è venuto fuori un video inaspettatamente lungo c'è c'è un po' di lavoro da fare sotto sai qual è brutto è quando proprio stai per dire ma si tanto ci metto poco a farlo no ma no perché allora il video è di una mezz'ora più o meno faccio rogazzo solo che deve diventare di 15 minuti ah ma faccio rogazzo proprio capite il problema allora se riesci a aspettare solo due secondi sì sì vabbè due secondi che volevo provare il liquido Ivan voleva comprare la Roma Miser Supreme V3 sì direi che è un buon inizio ma a parte quello se sei per il cloud è un buon inizio sì ma se vuoi avere 3 milioni di deck in un unico prodotto senza spendere miliardi è quello che fa per te allora analizziamo uh è frizzantino ti freddo un anno è frizzantino 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 non è male l'odore no ragazzi Alfa ha già fatto la copertina no non ci credo sto scherzando aspetta te l'apro da qua perché se no aspetta eh Alfa voleva comprare una Titan e il Valhalla ottimo che è spettacolo ragazzi che è spettacolo questo non re copertina da oggi un po' si chiama cambia il nome su youtube con re copertina è da rifinire cioè attenzione ma io sai cosa Alfa pulizia tubi io metterei solo tubi meccanici senza pulizia perché comunque parleremo in generale anche dei tubi si si beh certo se riesci a cambiare metti solo tubi top oh proviamo un attimo l'inco e poi chiudiamo dai surprise surprise sì devo dire che molto cioè ti dirò non riesce a collocarlo vabbè che adesso è presto ripeto però così come adesso non riesce a dare una collocazione come fruttato o cremoso ti dirò non è affatto male allora eccolo qua non è male è buono intanto che aspettiamo che maturi ovviamente perché adesso ripeto è molto presto per finire per definire il liquido però non è male ti lascia un buon retro gusto di caffè in bocca piacevole buono io direi che possiamo chiudere allora per ora qui qui stanno vincendo quasi tu vi facci vedere il tuo manganello mi dissocio mi dissocio per sicurezza io l'importante è dissociarsi nella vita ragazzi ragazzi martedì ne riparliamo deve prepararlo raga non è che si può far vedere così su due piedi una preparazione dietro è un indifferente comunque ho sentito che tra un po' saranno nevati dal commercio le batterie saranno in commercio solo box con batterie integrate io spero di no intanto non è possibile perché comunque le batterie saranno in commercio comunque perché le batterie hanno un mercato indipendente dalle sigarette elettroniche quindi non credo non credo e poi comunque resta il fatto che quelle che abbiamo le abbiamo quindi in un modo non è altro andranno alimentate considerando che solo con la mia piccola psycho modo ho già nove batterie penso di essere più che tranquillo tranquillissimo eccomi possiamo chiudere allora per ora ragazzi in vantaggio rimangono tubi meccanici pensa che smacco per alfo se poi alla fine si ribalta tutto su instagram ancora un'altra volta no dai no no però comunque avrebbe già fatto la copertina anche per l'argomento dopo siamo in 14 chiudiamo direi andres chiudiamo chiudiamo ovviamente ci sono noi due benissimo allora cari ragazzi intanto ringrazio andre per l'ospitalità in casa sua ma ci mancherebbe mi casa e tu casa amico mio e di fatto la prossima volta sei invitato tutta me quindi ragazzi martedì prossimo non siamo qui su The Big Atom Man ma siamo sul mio canale il mio angolo dello svapo e parleremo per ora di tubi meccanici seguiteci me e soprattutto andre qui su youtube e anche su instagram stessi nomi solo che da me del 96 alla fine i nomi sono quelli facebook siamo anche su facebook dai per chiunque volesse c'è anche il gruppo che abbiamo dove siamo moderatori io e andre e anche altra bella gente per chi volesse c'è la banda dello svapo fate un salto solo gente bella ci sono argomenti bellissimi siete liberi c'è un sacco di roba interessante sì c'è un sacco di roba interessante quindi passate passate anche su sulla banda dello svapo e niente io ringrazio ancora andre ci vediamo allora martedì prossimo sempre quest'ora non cambia gli orari ore 22 sul mio canale youtube perfetto ragazzi grazie infinite buonanotte a tutti ciao belli